Arrivi dalla Serie D, Dennis, prima partita, subito titolare allo Stadio Adriatico, te l'aspettavi? Sinceramente non me l'aspettavo, però so che il mister ha grande fiducia in me, quindi ogni volta mi tengo pronto per ogni partita. Che partita è stata per te quella d'esordio? Non è stata una partita facile perché ero un po' teso, perché non era una partita facile, poi con un ambiente del genere un po' di pressione la senti. Il risultato che vi ha premiato, adesso c'è un'altra partita, Perugia, sulla carta difficile. Sì, sappiamo che è una squadra forte, è una squadra costruita per vincere il campionato, ma noi siamo una squadra giovane e abbiamo voglia di dimostrare cosa sappiamo fare. Ci racconti chi è Dennis Manu? Dennis Manu è un ragazzo umile, un ragazzo che piace lavorare e io sono questo. Raccontaci un po' quando quest'estate ti è arrivata la telefonata e andrai a Pescara, cosa hai pensato? Sinceramente non mi aspettavo una chiamata così importante in una società così blasonata. Dennis Manu, chiudiamo così, chi è il tuo idolo calcistico? A chi assomigli? Il mio idolo è Paul Pogba. Grazie.